Per fare il punto sulle nostre conoscenze riguardo a Oumuamua, il visitatore interstellare scoperto nell'autunno scorso mentre attraversava il Sistema Solare, la NASA ha appena pubblicato sul suo Tumblr un elenco di 10 cose che sappiamo o che non sappiamo. 1. Sappiamo che arriva da fuori. Con i suoi 87 km al secondo, pari a oltre 300.000 km in tre orari, è infatti troppo veloce per aver avuto origine nel Sistema Solare. 2. Non sappiamo da dove provenga. La direzione sembra quella della Lyra, ma potrebbe aver vagato per la galassia per miliardi di anni. 3. È certo che non tornerà mai più. Dovrebbe incrociare l'orbita di Nettuno fra 4 anni, poi proseguirà in direzione di Pegaso e non ne sapremo più nulla. Ed è un vero peccato anche perché, quarto punto, non abbiamo idea di come si è fatto. Tutte le suggestive immagini che trovate in rete sono rappresentazioni artistiche in mano ai telescopi e poco più di un puntino. 5. Le variazioni periodiche di luminosità ci dicono che sta ruotando su se stesso. 6. Ci ha sorpreso scoprire che Oumuamua durante le ultime osservazioni ha leggermente accelerato. La causa dovrebbe essere l'emissione di getti di gas, proprio come ci si aspetta da una cometa. Ma, punto 7, non sappiamo in realtà di che cosa sia fatto, visto che, a differenza delle comete, avvicinandosi al Sole, Oumuamua non ha mostrato un'intensa perdita di polveri e gas. Punto 8. Sapevamo che prima o poi sarebbe venuto a trovarci, perché di oggetti vaganti lungo tragitti interstellari ce ne devono essere miliardi e miliardi, ma non era possibile prevedere quando sarebbe accaduto. 9. Non sappiamo cosa stia facendo ora, perché dallo scorso gennaio la distanza che ci separa da Oumuamua è troppo grande per poterlo vedere, persino per i telescopi spaziali, ma possiamo consolarci con il decimo e ultimo punto. Non sappiamo quando, ma è certo che prima o poi un altro ospite interstellare passerà a trovarci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.